L'associazione Siamo Taranto è a Tramontone, una raccolta di rifiuti, di ogni tipo di rifiuto fatto con amore dai volontari a supporto con l'azienda Chima Ambiente Amio che ovviamente istituzionalmente svolge il suo ruolo e abbiamo trovato un volontario con una carriola. Qualcuno che magari non ha seguito l'inizio del servizio può pensare che l'amico sia un muratore, ma invece non è così, è un volontario che sta accantonando i rifiuti che poi Chima Ambiente provvederà a smaltire, ma addirittura abbiamo proprio una discarica a cielo aperto. Le rubo due minuti, ci siamo già sentiti, ma vedere quello che accade e parlare di edilizia qui parliamo di inciviltà, è assurdo? No, diciamo che ancora forse non è entrata nell'ottica anche il discorso dello smaltimento stesso dei dinerti. Si spera che comunque capiscano anche questo. In primis sono sicuramente lavori fatti in casa o muratori stessi. È assurdo? Purtroppo sì, purtroppo sì. È una situazione che si ripresenta sistematicamente, non è un fatto episodico, è proprio ormai questa è diventata la discarica dei muratori. Diciamo che a Taranto dobbiamo un po' capire che ogni punto non deve essere necessariamente una discarica, ma proprio un punto a nostro favore. Grazie a lei, che complimenti. Le immagini parlano da sole, ogni mio commento sarebbe un'aggiunta inutile.